Stava sfrecciando con l'auto lungo la strada provinciale 540 della Valdambra, tra il Valdarno e Siena, con lui a bordo probabilmente un cliente, ma è stato fermato e denunciato dai carabinieri insospettiti da una strana manovra. L'uomo, infatti, alla vista delle forze dell'ordine, ha improvvisamente rallentato una mossa che ha insospettito i militari, tanto che l'hanno fermato e controllato. I carabinieri, percependo il grande nervosismo di entrambi, hanno così perquisito sia la macchina che i due a bordo. Il guidatore, un pregiudicato albanese di 50 anni, residente nel Valdarno a Eretino, aveva con sé 5 imbollucri di cocaina per un peso di oltre 5 grammi, corrispondente a 10 dosi che sul mercato avrebbero fruttato 40-50 euro l'una. Il passeggero, invece, aveva addosso altre due dosi, sempre di cocaina. A casa del 50enne, inoltre, i militari hanno trovato anche 15 grammi di hashish in una busta in celofan, un bilancino di precisione, un cucchiaio ancora sporco di polvere bianca e 850 euro in banconote ritenute provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato così denunciato, mentre il passeggero è stato segnalato alla prefettura.